... Fuori da Hubner, ancora il Cesena in avanti, questa volta Hubner ancora non riuscirà a raccogliere davanti al portiere. Il Bari finalmente si fa vedere con questa azione di Capocchiano che però è ribattuta in calcio d'angolo. Punizione di Alessio, parata facile del portiere Fontana del Cesena. Ancora il Bari in avanti, gran tiro di Alessio, grande parata in calcio d'angolo del portiere Fontana. Il miglior momento del Bari, stavolta Capocchiano anticipato di piedi dal portiere Fontana. Punizione del Cesena, parata facile di taglia la tela. Calcio d'angolo per il Bari, colpo di testa Caggianelli prima e Capocchiano poi non riescono a sospingere la palla in rete. E poi a terra cenere viene messo giù, almeno a nostro parere, ma l'arbitro fa proseguire. Ancora un'azione dubbia per il Bari, Alessio al momento di concludere è spostato. Nel secondo tempo il Bari fa entrare Tovaglieri, bello suo lancio per Capocchiano che salta anche il portiere ma spara molto a lato. Ancora il Bari in avanti, cerca di premere, combinazioni Laurieri, Cucchi e anche il tiro di Cucchi però si perde sul fondo. Il Cesena viene fuori, si fa vedere con questa combinazione Gautieri-Leoni, il suo tiro è parato in due tempi da taglia la tela. Ancora il Cesena che si propone in avanti e questa volta è molto bravo a salvare sulla linea di porta Brambati, un pericolo grosso per il Bari.